Il nuovo logo dell'Inter, non mi piace, sono padrone di dire se mi piace o non mi piace, devo dire che non mi piace, minimalista, Inter Milano, internazionale Milano, tutti lo sanno che l'Inter Milano è quella lì, si conosce il Barcellona, si conosce il Real Madrid, si conosce il Manchester United, non è il logo che cambia qualcosa, anzi, mi piaceva molto più quello di prima, però è stato cambiato diverse volte nella storia dell'Inter, almeno credo una quindicina, una ventina di volte, quindi non è un grosso stravolgimento, non è che stanno cambiando i colori sociali, non è che stanno cambiando il nome della squadra, quindi noi ci teniamo stretti quelli, perché sapete quando un gruppo acquista una squadra di calcio, la verità è che acquista la passione dei tifosi e quello il prezzo, non il prezzo, quello il bene che si acquista, la squadra di calcio non è un'azienda siderurgica che produce ferro, un'azienda alimentare che produce cibo, non è così, non produce niente, è proprio di tangibile, di toccabile, non produce niente, quindi loro comprano i nostri sogni. Adesso, situazioni dell'Inter, stanno pagando a Kimi, stanno pagando gli stipendi, però è chiaro, la vulgata è che vogliono andare via, vogliono venderlo quest'Inter, però ci cambiano il logo, vabbè, non mettano la quarta maglia, perché quella quarta maglia non si può guardare, ora uno pensa, ma Milano è la città della moda, è l'epicentro mondiale della moda, può uscire, ma con tutti gli stilisti che ci sono a Milano, ma chissà che belle maglie possono uscire, escono quella cosa lì che non lo so, dice uno, è una questione di marketing, però nel marketing le cose ti possono piacere e ti possono non piacere, anche quella maglia lì non piace, però ci lasciano la maglia dell'Inter così com'è, e dopo se ci portano lo scudetto, alla fine agli zanchi diremo solo grazie quando andranno via, quello sicuramente, su questo logo, è un logo sciacquato, a me sembra davvero un logo sciacquato, scritto da un ragazzino e non da gente che non ha nulla, non c'è nulla, davvero non c'è nulla, ha proprio una base azzurra, una I, una M, la facevano tutti, la facevano pure alle elementari, con tutte le cose belle che puoi fare, ne fai una che è minimalista, ma neanche minimalista, è un niente, un niente, quindi cambiamo, se andate a vedere tutti i luoghi, erano belli, c'era loro, c'era, avevano tutto un significato, avevano tutto uno studio, ma perché? Perché erano stati scelti da gente che aveva la nostra stessa passione, le proprietà dell'Inter, prima di Zhang, sono state proprietà con gente, tranne Toir, sono state proprietà con gente che aveva passione, Pellegrini, Moratti, Moratti, quelli avevano proprio la passione di quella squadra, ecco perché si appassionavano anche a cose che sembrano senza sé, senza valore come quel logo, invece il valore ce l'hanno, ce l'hanno assolutamente. Entriamo in un nuovo millennio, diciamo così, con questo logo che non mi sa di niente, ma va bene, alla fine la cosa più importante, ripeto, è il nome, l'Inter, e la maglia, nell'azzurra, fin quando non ci cambiano quelle, saremo uniti e disuniti, perché dopo quando io vedo i tifosi dell'Inter disuniti, a me dispiace, a me dispiace sempre, però saremo uniti, disuniti, è tutta un'onda di passione enorme, di milioni e di milioni di persone che tifano per l'Inter, questo è, però ci sono dei simboli, perché la passione si accompagna dei simboli, il logo è un simbolo, non è un simbolo importantissimo, diciamoci la verità, non è un simbolo importantissimo perché è cambiato tante volte, però è un simbolo, è un simbolo che viene cambiato da una società che io capisco poco a questo punto, a me piacevano gli Zang, e ne ho parlato sempre bene degli Zang, della famiglia Zang, hanno fatto bene all'Inter, hanno messo tanti soldi, hanno portato l'Inter dov'è, perché se l'Inter vince lo scudetto bisogna dire grazie agli Zang, e se se ne andranno e lasceranno i conti a posto, bisogna solo dire grazie e tanta buona fortuna, quello sicuramente, il punto è che però sappiamo che se ne devono andare, se ne vogliono andare, ci lasciano in eredità, se ci lasciano uno scudetto, è un logo che a me non piace completamente, dopo ci faremo l'occhio a questo logo, che volete che vi dica, quella quarta maglia però se ne andai, se ne andai quella quarta maglia è veramente, almeno da parte mia, da parte mia diciamo che non mi piace, non mi piace completamente, detto questo, quando ritorna questa serie A, ritorna questa settimana, faremo giovedì il pronostico e scommesse, quindi preparatevi per il pronostico e scommesse di giovedì, io fino ad adesso ho fatto tre, tre scommesse, ho messo su Instagram, me l'ho preso sempre, cioè fate un po' voi, praticamente la gente sta vincendo, ma fa piacere, a me io mi diverto, a me non interessa tanto più di quello, farò qualche video magari di pomeriggio, vediamo come si evolve anche la situazione a livello, come vedete c'è poco, c'è poco in questo momento, però sta ritornando di nuovo la serie A, ste cazze nazionali ormai si tolgono un po' dalle scatole di nuovo, perché proprio non riescono, io non riesco a capire una cosa e la chiudo qua, non riesco a capire una cosa, ma non se ne accorgono, ma non si rendono conto i capoccia a livello di federazione europea o mondiale, che non c'è nessun interesse alle nazionali fatto in questa maniera, ormai da anni e anni e anni e anni che le nazionali vengono viste come un disturbo e quindi vuol dire che non funziona, il format non funziona, tutto hanno messo pure la national league che funziona ancora meno, non riescono davvero a fare qualcosa di buono, di piacevole, devono riuscirci, non bloccare i campionati, si gioca il mercoledì e si gioca in varie fasi, fanno qualcosa del genere, però ormai basta, ogni volta tutti, io vedo tutti, tutti, ma tutti anche in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Danimarca, ovunque, ovunque, tutti a dire che è palle, e cioè, e metti qualcosa che è per tutti, non lo so, non lo so, perché non si svegliano e trovano un format diverso, ho detto questo ragazzi, ci vediamo più tardi, questo logo non mi piace, la quarta maglia non mi piace, però, tutto sommato, andiamo avanti così, ciao ragazzi, ciao ciao, iscrivetevi, ciao ciao!